Vanno nella direzione opposta anche le misure adottate in materia di personale. Perché vede, signor Sottosegretario, delle due l'una. O l'azienda è responsabilizzata e possiamo solo, in questo caso, abbandonare le, da tutti lamentate, politiche di tagli indiscriminati, i famosi tagli lineari che tutti osteggiamo e che poi però sistematicamente, quando legiferiamo, traduciamo in norme cogenti. Ecco, se vogliamo abbandonare il sistema dei tagli lineari, non c'è altra via, anche per quanto riguarda le politiche del personale, non c'è altra via che una responsabilizzazione dell'azienda. Noi auspichiamo un mondo sanitario italiano nel quale ogni singola azienda possa decidere autonomamente i livelli di turnover, secondo risorse che le siano assegnate attraverso criteri trasparenti e simili a quelli di tutte le altre aziende. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Fossati. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. La mozione in discussione, le mozioni in particolare quella a cui io mi riferisco, che è la mozione presentata dalle colleghe Lenzi Miotto e Gelli per il PD, propone al Governo di intervenire non fuori dal contesto delle politiche che il Governo stesso sta conducendo, ma nel contesto, cioè di una politica di contenimento della spesa, di recupero del debito delle regioni che lo hanno prodotto e una politica attuata assicurando i livelli essenziali di assistenza e facendo uno sforzo intenso e rapido di qualità nelle prestazioni del sistema di qualità e di appropriatezza. Cosa che si è fatto? Si è fatto utilizzando lo strumento della spending review. I colleghi l'hanno già citato, non ci rientro. Il tentativo è stato quello di intervenire su tutti quei fattori che producono spesa senza produrre risultati di miglioramento nelle condizioni di salute dei cittadini. L'operazione ha avuto tuttavia una dimensione quantitativa importante, una dimensione quantitativa importante e pesante per il sistema. È stata per alcuni versi una cura da cavallo che il sistema ha ricevuto e non solo nelle regioni in piano di rientro. Fino all'anno 2013, l'anno in cui c'è stata una diminuzione della spesa sanitaria. Sappiamo che quando il segno diventa meno, diventa meno al netto dell'inflazione sanitaria, che non è una variabile, essendo determinata anche da riflessi internazionali, non è una variabile del tutto controllabile o affrontabile dal sistema. E quindi il segno meno è un segno meno-meno, insomma, che aumenta la negatività del trasferimento di risorse. Nel 2014 si registra un aumento lieve. Nel 2015 abbiamo, con la legge di stabilità, ha già previsto un taglio di 2 miliardi, punto 6, che dovrà essere discusso operativamente e ancora questa discussione non è conclusa nell'ambito della conferenza Stato-Regioni dentro il quadro del patto per la salute. Noi abbiamo fatto questa operazione mantenendo e attestando la spesa sanitaria del Paese sotto il 7% del PIL, ma con un PIL in calo. E questo è un altro punto, è un assestamento doloroso, anche percentualmente rispetto al PIL. Sono usciti, pochi giorni fa, i dati della Banca d'Italia che ci danno un quadro sulla distribuzione di questo sacrificio abbastanza pesante. Ci dicono che il peso del risanamento è stato in gran parte sopportato dal personale sanitario. Dal 2006 al 2014, due quadri annualità, e il potere d'acquisto degli stipendi del personale sanitario è passato, anche in valori assoluti, dal 19,7 euro l'ora a 17,4, quindi un taglio del 13,4% in termini reali. E questo è un dato molto pesante e molto indicativo dell'operazione che abbiamo fatto. Teniamo presente che questo succederà, questo andamento non è stato toccato nemmeno nel 2014, l'anno in cui è risalita appena la spesa dello 0,6, perché la spesa, questo aumento di spesa si è concentrato non sugli stipendi, ma su il valore dei beni e dei servizi acquistati dall'amministrazione, dal sistema sanitario. Opportunamente qualche collega prima ha ricordato che beni e servizi non vuol dire le famose garze che costano da una parte 3, da una parte 315, da vedere perché è tutto quello su cui giustamente ci siamo e ci dobbiamo esercitare, ma vuol dire in grandissima parte la spesa per i convenzionamenti e quindi per i servizi sanitari convenzionati. Dicevo, oltre al preso economico poi per il personale sanitario c'è il peggioramento delle condizioni di lavoro, l'uso forte qualche volta in qualche situazione estremo del lavoro straordinario. Il blocco del turnover è un'operazione abbastanza efficace nel ridurre la spesa, ma è un'operazione che sbilancia i servizi perché non si programma l'uscita del personale. Sbilancia i servizi e provoca un ricorso quindi eccessivo, perché i servizi vanno in qualche modo riequilibrati se si vogliono garantire ILEA, ha l'istraordinario già detto, ma un lavoro precario, più oneroso e negativo per quello che riguarda la qualità dell'offerta. E poi c'è un dato più generale che non dobbiamo sottovalutare tra gli operatori, tra i medici, tra gli infermieri. Si riducono fino ad azzerarsi in molte parti del sistema i margini per l'aggiornamento professionale e per i progetti di ricerca. È un po' la motivazione alla formazione di cui parlava la collega Binetti, ma è in generale una caratteristica fondamentale del nostro sistema, che è un sistema che non ha rinunciato ad essere un sistema competitivo in termini di qualità anche nella ricerca scientifica applicata nelle nostre sedi ospedaliere e nel nostro territorio. Adesso noi abbiamo gli operatori che avvertono che non si investe più su di loro e questo, in un sistema in cui la motivazione è fondamentale, fa male al sistema. La stessa Banca d'Italia ci dice che le regioni in piano di rientro hanno dei risultati importanti di risparmio, senza cedere sul piano dei servizi, ma poi quando si va a leggere conferma la stessa Banca d'Italia la distanza dalla media nazionale per i risultati del sistema delle regioni in piano di rientro e il prodursi di flussi di fuga verso altre regioni. È importante collegare questi dati ai dati del Censis, perché noi siamo in grado di calcolare bene nelle regioni in piano di rientro la produzione di flussi di fuga verso gli altri sistemi sanitari regionali, ma quello che fa abbastanza impressione è l'aumento, anche nel 2014, di quello che i cittadini spendono da sé, dal proprio bilancio familiare. 33 miliardi, un miliardo d'aumento, 5,6 milioni di persone che sono ricorse alla sanità, a prestazioni private in sanità, tutte a carico del proprio bilancio familiare. E di questi 5 milioni e 6, 2 milioni e 8, quindi la metà, sono meno abbienti. Si produce quel, si potrebbe dire sanità divide, insomma, che è basato purtroppo sul non avere le risorse insieme a non avere le informazioni necessarie per accedere al sistema. È un tratto particolarmente fastidioso della disuguaglianza in sanità. Quindi siamo adesso in grado, dati questi numeri e dato il successo dell'opera di risanamento, siamo nelle condizioni di operare un intervento deciso sulla variabile capitale umano, dando agli operatori un segnale di attenzione e di condivisione delle problematiche che da tempo ci pongono. In realtà i tre punti sono stati ripetuti, li cito per titoli in conclusione di intervento. Si tratta di governare il turnover senza blocchi, utilizzando la strategia già messa in piedi con la legge di stabilità, ridando spazio a una programmazione dell'offerta da parte delle aziende sanitarie e delle dimensioni regionali. Bisogna bloccare con molta attenzione e confermezza la spesa per servizi esterni e privilegiare invece l'intervento di assunzione a tempo indeterminato, soprattutto sui settori sensibili, l'emergenza e urgenza, alcuni reparti ospedalieri e alcune dimensioni sociosanitarie sul territorio. Terzo punto, bisogna andare verso il rinnovo del contratto, del comparto e in particolare, mentre facciamo questo, costruendo una sede contrattuale della dirigenza medica, dirigenza medica che è l'80%, se non ricordo male dell'intera dirigenza statale, che più che avere diritto esprime un punto di ragionevolezza quando chiede una sede contrattuale autonoma. Se il Governo, come sta facendo, si incammina rapidamente su questa strada, dà un segnale a questi operatori che anche in questi anni, in anni di vacche magre e spesso molto magre, hanno reso un servizio importante per un diritto costituzionale come il diritto alla salute. Grazie. Non essendovi altri scritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo, mi pare, intenda intervenire successivamente. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione d'Ambruoso Cicchitto Mazziotti di Celsio numero 1771 in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica di matrice jihadista. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario.